Gentili telespettatori, buona giornata. Probabilmente Matteo Salvini è rimasto al sondaggio di Pagnoncelli, che lo dava come primo partito al 21%, ma tutti gli altri sondaggi danno la lega al 18,5%. Un tracollo. Secondo me lui non vuole vedere la realtà, perché adesso parla di una lezione per il centrodestra italiano, il voto in Germania. Dice così, se verranno confermati i dati con una clamorosa sconfitta del centrodestra, CDU, CSU ai minimi storici e senza premier dopo 16 anni, e la vittoria dei socialisti, è ancora più importante che il centrodestra italiano si riunisca e lavori insieme in Italia, ma soprattutto in Europa. Caro Salvini, il centrodestra si riunisca e lavori insieme, ma non eri tu quello che isolava Giorgia Meloni, ti incontravi con Berlusconi, a casa di Berlusconi, che vi mettevate d'accordo per federazioni, fusioni, avevate trovato anche il notaio per fare Berlusconi presidente di questa strana cosa, e tu segretario di questa federazione che non si capiva bene che cos'era. Non siete voi che avete fatto un sacco di sgambetti a Giorgia Meloni, dal Copassir alla RAI, alla sfiducia Speranza? Non eri tu che dicevi, noi non votiamo le cose che propongono altri. Insomma, ne era emerso un Salvini politico realmente che non avevamo ancora visto, e per fortuna che lo abbiamo visto, per fortuna che lo abbiamo visto, per fortuna che Salvini si è palesato in tutto il suo splendore politico in questi ultimi mesi. Adesso ci parla di unità del centrodestra italiano. Unità del centrodestra italiano. Tu e Berlusconi, complottando contro la Meloni, si dice da molte indiscrezioni che preferireste fare un altro governo con PD e 5 Stelle piuttosto che far diventare la Meloni Premier. non è questa una sana competizione. Questa è invidia, pura, pura, purissima, purissima, levissima, pura. Quindi quando sento Salvini che dice, Caspiterino in Germania hanno perso, questa deve essere una lezione per il centrodestra italiano. Deve essere una lezione per te. Deve essere una lezione per te, Salvini, che stai distruggendo il centrodestra. Centrodestra che era al 52%, hai cominciato con Berlusconi a dare i numeri quando Giorgia Meloni si avvicinava sempre di più e il tuo partito scendeva sempre di più. Al posto che fermarti, chiamare Giorgetti, i tuoi fedelissimi, dire sediamoci, aiutatemi, c'è qualcosa che non va. Dal 34 al 18 e mezzo c'è qualcosa che non va. Significa che se gli elettori scappano, 7 milioni, 400 mila elettori, che è la discesa della Lega, 16%, il 16% di 46 milioni e mezzo di elettori vuol dire 7 milioni e 400 mila voti persi. Doveva sedersi e dire, bene, ditemi chiaramente in faccia, visto che questo è il circolo ristretto, ditemi chiaramente in faccia le cose. Sono il capo, non vi preoccupate, non mi offendo, voglio sapere realmente cosa pensate di me, cosa pensano gli elettori di me, perché quando uno diventa un grande politico di un grande partito, corre il rischio di venire a sue fatto giornalisti sempre, televisioni, uno si crede un padre eterno. Guardate Renzi, è sparito quasi dalla politica, aveva il 42%, quindi lui doveva fermarsi e capire, altro che una lezione dalla Germania per il centrodestra italiano. Magari è una lezione per te. Berlusconi non ha niente da perdere, al 6% quello vuole fare il premier, cioè il premier, scusate, il capo dello Stato. Giorgia Meloni va avanti per la sua strada, non offende nessuno, non fa sgambetti a nessuno, fa le sue cose, le sue manifestazioni, fa le sue dichiarazioni, ed è sempre corretta. Noi non vogliamo superare Salvini, loro fanno bene a fare la federazione, avranno i loro motivi, anzi io li incoraggio. Giorgia Meloni è l'alleato perfetto, Giorgia Meloni è una signora, è una vera signora, un signor alleato. Trovarne alleati così. Ma guardati in giro, PD, 5 Stelle. Quindi caro Salvini, una lezione per il centrodestra italiano dovrebbe essere una lezione per Matteo Salvini. Una lezione per Matteo Salvini. Rifletti, non essere imbevuto di superiorità. E poi continua, uniti a Bruxelles, superando divisioni e interessi di partito. Difenderemmo con più forza l'interesse nazionale italiano. Che la lezione tedesca sia un insegnamento, altrimenti l'ideologia socialcomunista in Europa non avrà più argini. Io direi che è meglio cominciare a guardare all'Italia. Lasciamo perdere Bruxelles, socialcomunisti, ideologia, lezione tedesca. Io credo che i politici italiani dovrebbero pensare principalmente al governo e alla politica del paese. Giorgia Meloni è presidente dei conservatori europei, un grande prestigioso partito. È la destra europea, Caspiterina. Giorgia Meloni è presidente della destra europea. Io direi, Salvini, lascia perdere le elezioni tedesche, i socialcomunisti. La lezione tedesca, se proprio vuoi, apprendila tu. Apprendila tu. Perché il centrodestra era solido. Poi quando la Meloni ha cominciato ad avvicinarsi alle percentuali della Lega, ti sei completamente annebbiato la vista dalla competizione. Sì, no, forse, forse sì. Non scappate, state con me, io do ragione a tutti. Io direi questo. La lezione per il centrodestra italiano dovresti apprenderla tu, caro capitano. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Siamo anche in Teleitalia Seconda Rete, sempre qua su YouTube. Su Facebook c'è la pagina Teleitalia dove trovate questi video condivisi dopo qualche ora. Grazie a tutti nuovamente. Arrivederci.